Sebbene le politiche monetarie ultraespansive delle banche centrali negli ultimi trimestri abbiano ostentato di avere efficacia e desiderata in termini di crescita economica, hanno indubbiamente avuto effetti positivi per quanto riguarda la riduzione dei rischi sistemici. In particolare il piano di OMT, ovvero di acquisto di titoli del tesoro dei paesi periferici annunciato della Banca Centrale Europea nel corso del mese di agosto scorso, ha avuto un'efficacia notevole nella riduzione dei rischi di rottura dell'Unione Monetaria. Parallelamente le politiche fiscali più credibili in Europa hanno contribuito a ripristinare un progressivo contesto di fiducia che ha portato a una riduzione degli spread dei titoli dei debiti periferici rispetto a quelli tedeschi. Questo è un primo aspetto positivo che ci permette di guardare con un certo favore i mercati azionari. Per quanto riguarda il contesto micro, le previsioni di stagnazione della crescita economica non impediscono di avere una visione favorevole sulla dinamica dei ricavi delle aziende europee. In particolare la diversificazione nella struttura dei ricavi delle aziende molto orientata all'esportazione dovrebbe permettere a queste di avere una crescita dei ricavi in territorio positivo nonostante un consenso di sostanziale stagnazione della crescita economica a livello europeo. Inoltre dopo diversi trimestri di forte contrazione della marginalità le aziende dovrebbero vedere una stabilizzazione dei loro profitti con una possibile ripresa nell'ultima parte dell'anno e un'ulteriore accelerazione nel corso del prossimo del 2014. Su questo dovrebbero influire favorevolmente alcuni aspetti. Il primo è il fatto che le misure di austerity a livello europeo hanno avuto un punto di massimo nel corso del 2012 e il loro effetto dovrebbe gradualmente attenuarsi già a partire dai prossimi trimestri. Inoltre come si è detto la ripresa della fiducia del settore privato, famiglie, imprese dovrebbe deporre a favore di un'ulteriore dinamica positiva della marginalità. Da ultimo la dinamica benevole delle commodity dovrebbe deporre a favore dei profitti societari. Questo ci porta a considerare come ipotesi di lavoro quella di avere una dinamica dei profitti a livello europeo in crescita per quest'anno in un ordine del 3-5% e in ulteriore accelerazione nel corso del prossimo anno in un intorno del 10%. Diciamo che quindi la dinamica dei profitti è il primo elemento che ci porta a guardare con maggior favore i mercati azionari, in particolare quelli europei. Il secondo elemento che dovrebbe contribuire a una dinamica favorevole di listi nazionari è rappresentato da un'ulteriore espansione attesa del price earning, cioè il prezzo a cui gli utili vengono scambiati. Diversi sono gli elementi che dovrebbero favorire un'espansione del price earning e quindi dei prezzi del mercato azionario. Primo fra tutti, come abbiamo detto prima, è la riduzione dei rischi sistemici grazie alle politiche ultraespansive delle banche centrali. Inoltre vi sono segnali di stabilizzazione del ciclo economico nei paesi emergenti, in particolare per quanto riguarda l'Asia e la Cina. Gli ultimi dati sulla produzione industriale e sul commercio internazionale hanno praticamente dissolto i dubbi iniziali di qualche trimestre fa di un apotetico hard landing, cioè di un rallentamento molto forte della crescita cinese. Da ultimo è atteso un graduale processo di riallocazione di investimenti dal reddito fisso verso i mercati azionari. Questo perché, come si diceva, le politiche di quantità di divising e di tassi sostanzialmente a zero delle banche centrali hanno portato in molti paesi i titoli dei governi, i titoli di Stato a rendimenti sostanzialmente negativi in termini reali, cioè il rendimento nominale detratto all'inflazione ci porta ad avere dei rendimenti che in molti paesi sono negativi. Questo ha favorito nel corso del 2012 una contrazione degli spread dei titoli societari, delle obbligazioni societarie molto forte, per cui anche i rendimenti delle obbligazioni societarie oggi sono molto compressi. Quindi per la ricerca di rendimenti reali nel medio termine è assolutamente ragionevole ipotizzare che via via flussi crescenti di investimenti si rialloccheranno verso i mercati azionari. In termini relativi il favore che abbiamo in questo momento del mercato azionario europeo rispetto a quello americano deriva da un paio di considerazioni. La prima è una valutazione sostanzialmente più favorevole per i mercati azionari europei. Nel corso degli anni passati la crisi dei debiti sovrani ha influito molto sulle valutazioni e le ha compresse a livelli decisamente inferiori rispetto a quelli statunitensi. In secondo luogo la dinamica dei profitti, come abbiamo detto prima, attese in moderato progresso per quest'anno in accelerazione nel prossimo, diventa del tutto comparabile con quella americana. Quindi questi due fattori insieme dovrebbero permettere una sovraperformance del mercato europeo nei prossimi trimestri rispetto a quello americano. Questo per dire che lo scenario rimane costruttivo. Alcuni rischi rimangono in campo, soprattutto quelli di carattere politico-fiscale, nel senso che in Europa il piano della Banca Centrale, l'OMT, come abbiamo detto prima, è contenitivo rispetto al rischio di rottura dell'euro, non è risolutivo, cioè non pone una soluzione ai problemi di crescita e di integrazione politico-fiscale dei Paesi. Per questo sarà necessario che si proceda nel percorso lungo di integrazione fra i Paesi e che non vengano abbandonate le politiche di equilibrio nei bilanci pubblici dei singoli Stati. Abbiamo due momenti importanti da monitorare con attenzione nell'anno in corso, nei prossimi trimestri, che sono le elezioni politiche in Italia il mese prossimo e successivamente nell'autunno le elezioni politiche in Germania.